Buonasera, bentrovati. Allora vi dico subito che c'è stata una svolta nella questione, nella vicenda del bonus che è stato chiesto, ottenuto da cinque, anzi per la verità da tre parlamentari, quel bonus per aiutare le partite IVA in difficoltà. C'è stata una svolta perché il garante della privacy ha fugato ogni dubbio, ha chiarito che non si possono dire i nomi dei beneficiari di questo bonus soltanto nel caso in cui si venisse a sapere di una condizione economica di disagio e naturalmente non è questo il caso visto che si tratta di parlamentari. Non solo, il garante della privacy ha anche sottolineato che bisognerà aprire un'inchiesta, un'indagine, più che un'inchiesta, un'indagine per capire qual è stata la metodologia seguita dall'Inps perché è evidente che far emergere che qualche parlamentare ha fatto richiesta e ha ottenuto il bonus senza però nominare e far sapere i nomi della persona ha creato e ha scatenato una sorta di circuito mediatico di cui naturalmente anche noi siamo stati partecipi ma non poteva essere altrimenti perché è scattata la caccia all'uomo. Di questo parleremo in apertura del telegiornale anche perché i partiti hanno preso in maniera molto forte le distanze dai cosiddetti beneficiari. Molti, sentirete, hanno già annunciato che non verranno ricandidati non solo i parlamentari ma anche quei consiglieri e ce ne sono regionali, provinciali che hanno chiesto e ottenuto il bonus. Ma c'è un'altra notizia che è in primissimo piano oggi. La Russia, in particolare il presidente russo Putin, ha annunciato che è stato registrato per la prima volta un vaccino per combattere il Covid-19, il coronavirus. Non solo, che sarebbe stato anche già somministrato a una delle sue figlie. Ora naturalmente questa è una notizia che detta così è estremamente rilevante, però bisogna prenderla con molta cautela perché ci sono pur senza essere virologi naturalmente due punti che vanno sottolineati che sono molto importanti. Primo, la Russia non ha fornito alcuna evidenza scientifica rispetto a questo vaccino, non solo. Il secondo punto è che la fase cosiddetta fase 3, cioè la fase di sperimentazione sugli esseri umani, è cominciata appena una settimana fa e per prassi scientifica, che non è un dettaglio, servono almeno 4-6 mesi per avere l'approvazione finale. Dunque sentirete nel corso del giornale anche l'opinione di esperti e di medici e virologi proprio su questo punto. Ma ci occuperemo anche di altro perché naturalmente questa storia del vaccino arriva in un momento in cui purtroppo, ve lo devo ribadire come abbiamo fatto già ieri, la curva tendenziale dei contagi nel nostro paese di Covid continua a non essere molto buona, continua ad aumentare, soprattutto per i casi di ritorno dai paesi stranieri. Ci sono due paesi europei che preoccupano in particolare e sono la Francia e la Spagna, vi racconteremo perché e soprattutto vi racconteremo delle misure che diverse regioni, in Emilia Romagna addirittura si partirà domani, diverse regioni stanno approntando proprio per evitare il diffondersi del contagio delle persone che rientrano dall'estero, appunto applicando dei test rapidi al rientro dalle vacanze. Poi torneremo sulla ricandidatura del sindaco di Roma, Raggi, perché è arrivato l'endorsement, come si dice, c'è l'approvazione da parte del fondatore del movimento Beppe Grillo, ma anche da parte di Luigi Di Maio. Sentirete come ha reagito invece la base e l'organigramma ufficiale del movimento. E poi torneremo sulla storia di Viviana Parisi, la DJ morte in provincia di Messina che resta ancora un mistero incredibile. Il bambino e il piccolo Joel Edix di 4 anni non è ancora stato trovato, ma qualche novità c'è perché è cominciata l'autopsia proprio poche ore fa. A tra poco, intanto per i titoli tra 30 secondi. La caccia ai furbetti del bonus Covid per le partite IVA. Dal garante della Preva si è arrivato il via libera alla pubblicazione dei nomi dei deputati che hanno ottenuto dall'Inpsi 600 euro. I sospetti si appuntano su due deputati leghisti e uno del Movimento 5 Stelle che rischiano di essere sospesi. Intanto risalgono i contagi per il coronavirus in Italia. 412 nuovi casi, circa 150 in più di ieri a fronte di un maggior numero di tamponi eseguiti. Lieve aumento le vittime, 6. A Pozzallo 73 migranti sono positivi e l'esercito rafforza il presidio dell'hotspot. In Emilia Romagna da domani obbligo di tampone per chi rientra da Spagna, Grecia e Malta. E poi c'è un annuncio che fa discutere. La Russia fa sapere Putin ha registrato il primo vaccino contro il Covid. L'ha fatto anche una delle mie figlie, ha aggiunto. La notizia del vaccino russo, battezzato da Mosca Sputnik V, suscita le perplessità degli scienziati. Dovrà passare una rigorosa valutazione, avverte l'OMS. Dagli Stati Uniti alla Germania, forti dubbi sulla sicurezza e l'efficacia. Endorsement di Beppe Grillo, la ricandidatura di Virginia Raggi. Daie, scrive il fondatore dei Cinque Stelle a sostegno della sindaca di Roma. Via libera anche da Di Maio. Sulla deroga i due mandati deciderà però la base. Centrodestra intanto all'attacco. Per Meloni ci vuole un sindaco all'altezza della capitale. Voci di una candidatura di Enrico Letta, ma l'ex premier smentisce. E' cominciata nel tardo pomeriggio l'autopsia sul corpo di Viviana Parisi. La donna scomparsa lunedì scorso e trovata senza vita nelle campagne di Caronia, nel Messinese. Dall'esame si capiranno forse le cause della morte. Dai PM è partito un appello ai testimoni scomparsi. Diteci se Gioele era con lei, il figlio. Proseguono le ricerche con l'aiuto anche di cani molecolari e di droni. Ondate di arresti in Bialorussia durante le proteste contro la contestata rilezione di Alexander Lukashenka. In un drammatico video diffuso dopo ore di silenzio, Svetlana Tikhanoskaya, la sfidante sconfitta, rifugiata sin Lituania, chiede ai suoi sostenitori di accettare l'esito del voto. Una scelta difficile, spiega, ma viene prima la sicurezza dei miei figli. L'Unione Europea minaccia sanzioni. Voto non libero. Buonasera, bentrovati. Dunque è diventato sempre di più un caso politico alla questione dei parlamentari che hanno chiesto e ottenuto il bonus per aiutare le partite IVA in difficoltà a causa del Covid-19. Perché oggi è stata una rincorsa dei rappresentanti, sia dei capigruppo in Parlamento, ma anche dei segretari o dei governatori. Sentirete tra poco di diversi partiti nel sottolineare che chi ha sbagliato, tra mille virgolette, dovrà pagare, verrà o sospeso o non verrà rieletto nelle prossime consultazioni. E sapremo presto di chi si tratta, perché facendo base su quella delibera di cui vi parlavo ieri, la delibera 59 dell'anticorruzione, il garante della privacy è stato molto chiaro. I nomi si possono fare. Che siano furbetti del sussidio o solo incauti i deputati, scivolati in modo inopportuno sul bonus Covid, lo sapremo presto, perché non potranno trincerarsi dietro lo scudo della riservatezza e quindi i loro nomi potranno essere resi pubblici. A fugare ogni dubbio oggi è il garante della privacy, che prende posizione ufficiale sulla vicenda, effettivamente poco onorevole. Chi riveste una carica pubblica, si legge in una nota dell'autority, non può invocare la riservatezza dei dati personali se fa richiesta, e tanto più ottiene, un contributo pubblico. Il garante comunica inoltre l'apertura di una istruttoria sulla metodologia seguita dall'Inps, che eroga il bonus rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari e alle notizie diffuse e finite sui giornali. Insomma, la caccia al furbetto potrebbe concludersi in tempi rapidi. Intanto l'ondata di indignazione monta fuori e dentro i palazzi, dove il pressing dei partiti sull'Inps si fa sempre più insistente, così come l'imperativo delle segreterie ad autodenunciarsi. Cinque deputati che avrebbero chiesto il contributo destinato alle partite IVA, ma che solo in tre avrebbero ottenuto. Si tratterebbe di due parlamentari della Lega e di un esponente del Movimento 5 Stelle, mentre le richieste di un altro leghista e di un deputato di Tagliaviva sarebbero state respinte. Nel carroccio i sospetti ricadono su Andrea Dare ed Elena Murelli. Da due giorni i loro cellulari restano muti. Sarebbe quanto imposto loro dai vertici, in attesa dei chiarimenti dovuti. Se qualcuno ha preso un bonus, verrà sospeso e la linea dura confermata dal capogruppo Riccardo Molinari, anche se quei soldi sono stati dati in beneficenza, aggiunge. Il riferimento al caso del supermanager Ubaldo Bocci, consigliere in quota Lega al Comune di Firenze, che si è giustificato così dopo aver ammesso di aver incassato il sussidio. Stessa versione da un consigliere regionale DEM in Piemonte, Diego Sarno. Non si fa beneficenza con un bonus dello Stato, la replica del governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini. Vero è, come accertato, che in realtà sarebbero oltre 2.000 gli esponenti politici, tra consiglieri regionali e comunali, che avrebbero chiesto il contributo da 600 euro per gli autonomi, previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio, per fronteggiare l'emergenza coronavirus. I furbetti del sussidio chiedono scusa, ma no a campagne di odio. Mette in guardia il presidente della Camera Roberto Fico, esponente di vertice del Movimento 5 Stelle, dove in tanti hanno raccolto l'appello del capo politico Vito Crimi a rinunciare alla privacy. Proprio sui 5 Stelle cadono i sospetti del centrodestra, che vede nella vicenda una manovra per tirare la volata al referendum di settembre sul taglio dei parlamentari. I deputati che hanno preso il sussidio hanno compiuto un gesto meschino, afferma Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Detto questo, aggiunge, Mi colpisce il clima da caccia alle streghe instaurato dal presidente dell'Inps. Per l'ex premier, Tridico ha sbagliato tutto su cassa integrazione e misure per le partite IVA, e per questo deve andare a casa. L'impressione che si sia aperto un po' un vaso di Pandora su questa storia dei bonus. Vedremo nei prossimi giorni, ma oggi c'è un'altra notizia di cui dobbiamo parlarvi, e sulla quale torneremo presto, l'annuncio di un possibile vaccino contro il Covid-19, che sarebbe una notizia particolarmente importante. Vedremo con quali cautele però va presa. È particolarmente importante perché, come vi dicevamo e vi diciamo da giorni, la curva tendenziale dei contagi nel nostro Paese continua ad aumentare, e continua ad aumentare soprattutto tra quelle persone che rientrano dalle vacanze dall'estero. È diminuita l'età media dei contagiati, siamo ormai sotto i 40 anni, ed è aumentata molto invece la percentuale dei ragazzi che sono contagiati, a dimostrazione che probabilmente sono proprio loro, senza naturalmente far partire la caccia alle streghe, ma insomma sono proprio i ragazzi di intorno ai 20 anni, spesso asintomatici o paucisintomatici, che continuano a diffondere il virus. Questa è la situazione di oggi. I dati di giornata dicono che i contagi da coronavirus sono in aumento. I nuovi positivi sono 412 contro i 259 di ieri, 6 le vittime, 2 in più, ed oltre 200 i guariti. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono oltre 40.600, 14.000 più di ieri. L'aumento maggiore di casi in Sicilia, dove su 89 neocontagiati, 73 sono migranti, ed il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, chiede aiuto, esasperato dalle continue fughe di migranti dall'hot spot, una sessantina in tre giorni, di cui due positivi al virus. È lui stesso ad annunciare l'invio, disposto dal prefetto di Ragusa, di altri 90 militari per presidiare il centro. Ed è attesa una seconda nave che ospiterà i migranti in quarantena. Dotata di circa 290 cabine, stazionerà nel porto calabrese di Gioia Tauro, la motonave Aurelia, che potrà spostarsi lungo la costa calabrese o siciliana ed intervenire in caso di emergenza nella stessa Lampedusa. Solo due regioni risultano covid-free, Valle d'Aosta e Molise, mentre in Lombardia aumentano i nuovi casi a fronte della metà dei tamponi effettuati lunedì. In particolare resta sotto osservazione Milano e provincia per il numero dei nuovi contagi. Nella regione più colpita dal virus oggi, per il quarto giorno consecutivo ed in Piemonte per il terzo, non si registrano decessi. Pesa l'effetto vacanze all'estero, molti turisti italiani rientrati dalle ferie si scoprono positivi al virus. Luoghi più a rischio, discoteche e locali della vita notturna. Il ministro della Salute e Speranza è pronto a disporre a breve test rapidi negli aeroporti per chi arriva dall'estero. In particolare all'arma l'aumento dei contagi in Spagna, Grecia, Malta e Croazia e contemporaneamente si abbassa sotto i 40 anni l'età media di chi contrae il Covid. Sono i giovani, spesso asintomatici, che viaggiano di più ad essere a rischio. Ma i provvedimenti ad hoc contro il contagio da rientro sono estesi a tutti i viaggiatori. Il primo presidente di regione ad optare per i tamponi è Stefano Bonaccini, sulla base di un'ordinanza da domani tutti quelli che tornano in Emilia-Romagna, da Spagna, Grecia e Malta, saranno obbligati a fare il test entro 24 ore dal rientro. In caso di esito positivo scatterà la quarantena. E per i prossimi appuntamenti elettorali e referendari del 20 e 21 settembre è già previsto un protocollo di sicurezza anti-Covid, accessi contingentati, entrate ed uscite differenziate dei seggi, mascherine e distanza di sicurezza obbligatori. Insomma, le regole si dovrebbero tenere sempre. Avete sentito dal servizio che l'Italia si trova paradossalmente al centro di una nuova tempesta, di una nuova ondata, anche se per la verità la prima non è mai realmente finita. E i paesi che preoccupano di più, lo sentivate, tra gli altri sono anche Francia e Spagna. I contagi hanno ricominciato a correre in Francia e Spagna in due settimane, dal 23 luglio al 6 agosto, sono stati registrati rispettivamente 12.500 e 29.300 nuovi casi. Cifre impossibili da sottovalutare in due paesi che hanno pagato in termini di vittime un prezzo altissimo alla pandemia. Ma i nuovi contagi, favoriti certamente anche dalla ripresa della circolazione dentro e fuori i confini nazionali, vanno arginati subito prima della ripresa delle attività d'autunno, comprese le scuole e le università. Per questo a Parigi e in altre città, da ieri è tornato l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto. E oggi, in visita nel sud del paese, il primo ministro Castex ha annunciato che fino al 30 ottobre resterà in vigore il divieto di organizzare e partecipare ad eventi con più di 5.000 persone. Una decisione che suona un po' come una beffa visto quello che è accaduto non molto lontano da Montpellier. Allo Zer, nel Parco Nazionale di Sevin, in una regione poco abitata e che finora si era tenuta abbastanza a riparo dall'epidemia, oltre 10.000 persone hanno partecipato per tre giorni ad un rave party dove non c'è stato alcun rispetto per le misure di protezione minime dalle mascherine al distanziamento all'igiene personale. L'accampamento è stato un potenziale incubatoio per il coronavirus. Ora si teme che le persone che hanno partecipato al rave possano portarlo in tutto il paese. Non va bene neanche in Spagna che per il numero di casi è ormai la prima in Europa e che è alle prese con quasi 600 focolai attivi. Sembrava che il paese avesse superato i terribili mesi della primavera scorsa quando il governo Sanchez aveva dovuto aprire i palazzetti del ghiaccio per ospitare le vittime. Invece da oltre un mese in Catalogna prima nel resto del paese poi sono ricominciati, anche se parziali, i blocchi. La Spagna, soprattutto Barcellona e le isole Baleari resta una delle mete preferite dei giovani europei. Il Regno Unito vi ha proprio vietato i viaggi e in altri paesi chi torna da lì viene controllato con test e tamponi. È chiaro che tutto cambierà quando arriverà il tanto desiderato vaccino. In questo momento sono circa 200 le sperimentazioni a cui stanno lavorando gli scienziati. Una ventina sono quelli che sono arrivati nella fase finale e cinque sono quelli che sono nella fase cosiddetta tre, cioè nella sperimentazione degli effetti sull'uomo. Si tratta di tre cinesi, uno britannico dell'Università di Oxford in collaborazione anche con un'equipe italiana e un quinto americano. Ma oggi è successo qualcosa di nuovo perché il presidente della Russia Putin ha fatto un annuncio che era nell'aria ma che era prevedibile ma che forse ha accorciato un po' i tempi nella storia del vaccino. Perché ha annunciato di aver registrato la prima volta al mondo un vaccino anti-Covid e di averlo addirittura già somministrato ad una delle sue figlie. Il vaccino si chiama Sputnik V qui che la dice lunga su quanto abbia un peso geopolitico questo annuncio perché ricorda chiaramente la Space Race, la guerra dello spazio in cui la Russia, allora Unione Sovietica riuscì per prima a mandare un satellite, lo Sputnik appunto, e a vincere in quella fase la guerra spaziale contro gli Stati Uniti. Quindi quel richiamo non è sicuramente casuale e appunto è importante per capire il peso di questo annuncio. Un annuncio che però la comunità scientifica internazionale ha preso con grandissima cautela. Stamani, per la prima volta al mondo, abbiamo registrato il vaccino contro il Covid-19. Si chiamerà Sputnik V. Ad annunciarlo il presidente russo Vladimir Putin, pronto a garantire l'efficacia del nuovo preparato che porta il nome del primo satellite artificiale terrestre messo in orbita dall'Unione Sovietica nel 1957. Putin è così sicuro della validità del vaccino che ha rivelato di averlo fatto testare anche su una delle due figlie, senza specificare se si tratti di Maria o Catarina. Dopo la prima dose ha avuto la febbre a 38, che il giorno dopo è scesa poco sopra i 37 gradi. Poi, dopo la seconda dose, ha detto il presidente, ha avuto di nuovo una leggera febbre. Ora si sente bene e ha un alto numero di anticorpi. Dopo una prima distribuzione a settembre, a medici, infermieri e insegnanti, assicura che dal 1 gennaio tutti, in Russia, potranno vaccinarsi. Nel test a testa in corso da mesi tra Stati Uniti, Cina e Gran Bretagna, le uniche ad avere già avviato i test della fase 3, ovvero quelli decisivi di sperimentazione sugli esseri umani, prima dell'autorizzazione alla messa in commercio, dunque, Mosca avrebbe avuto la meglio. Secondo il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, al 27 luglio, erano 44 gli studi in corso su una trentina di vaccini in tutto il mondo, di cui, appunto, 4 in fase 3, 2 cinesi, 1 britannico e 1 statunitense. La Cina sarebbe più avanti degli Stati Uniti e Donald Trump si mostra preoccupato. Perdere la nuova guerra fredda in corso tra le due potenze, proprio mentre il paese registra il maggior numero di casi e di vittime da coronavirus, potrebbe costarli la rielezione. Il punto è avere un vaccino sicuro per gli americani e per il mondo, non essere i primi, commenta lapidario il ministro della salute statunitense Alex Azhar. Intanto, il portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che il vaccino russo contro il coronavirus dovrà essere sottoposto a rigorosi esami e valutazioni di tutti i dati richiesti sulla sicurezza e l'efficacia prima di ottenere l'approvazione dell'OMS. A muovere apertamente dubbi sulla qualità, l'efficacia e l'assenza di rischi del vaccino russo è il ministro della salute tedesco Jens Spahn. L'autorizzazione di un vaccino in Europa richiede sufficienti conoscenze di test clinici su questi tre aspetti, sottolinea. Per il momento quello che abbiamo dalla Russia è soltanto una dichiarazione giornalistica sulla quale non credo di poter dare nessun giudizio se non quello della necessaria cautela. Dobbiamo vedere i dati, dobbiamo riuscire a capire di che vaccino si tratta. È chiaro che mancano tutte le evidenze scientifiche fino a questo momento, vedremo. Torniamo alle notizie che ci riguardano più da vicino di Cronaca. Ieri vi abbiamo dato praticamente quasi in diretta la dichiarazione, la decisione del sindaco di Roma, Virginia Raggi, di ricandidarsi alla poltrona di sindaco e anche di quanto aveva dichiarato i suoi consiglieri. Oggi è arrivato l'appoggio, l'endorsement del fondatore Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e non solo, ma è arrivato con una parola tipicamente romana. Taglie, quattro lettere, un invito ad andare avanti. In romanesco, una parola sola, ma visto che a pronunciarla e Beppe Grillo è il rompighiaccio più autorevole, potesse aspettarsi Virginia Raggi, che ieri aveva a sua volta rotto il ghiaccio, annunciando di puntare al bis da sindaca di Roma. Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima, aveva detto, ma in effetti è la sua tavola ad essere al momento tutt'altro che apparecchiata in un Movimento 5 Stelle, il cui imbarazzato silenzio, a cominciare da quello del reggente Vito Grimi, è stato interrotto solo nel pomeriggio da Di Maio, che rituitando il messaggio di Grillo ha aggiunto Virginia Raggi sta svolgendo un ottimo lavoro ed ha bisogno del supporto di tutto il Movimento 5 Stelle. Cosa al momento tutt'altro che scontata, vista la confusione che continua ad accompagnare il perdurante vuoto di potere in un movimento che non ha nemmeno sciolto quel limite del secondo mandato che al momento sbarrerebbe alla Raggi, che prima di essere eletta sindaca era già stata consigliere comunale, la strada della ricandidatura, ma che se infranto allungherebbe l'avventura politica a tutti i 5 Stelle che contano. Ma non c'è solo questo punto, che comunque dovrebbe passare per il voto della base. Ci sono, prima ancora, le polemiche anche interne che hanno accompagnato specie all'inizio il suo mandato e più in generale c'è una questione, quella delle alleanze, che con le regionali alle porte rischia di essere decisiva per la stessa maggioranza di governo. Perché il PD, il suo parere, lo ha già reso noto e non ricalca, certo, quello lanciato da Grillo a modo suo o a modo se fa. Roma non te merita, aveva detto lui. Roma merita di più, dice oggi il vice segretario Orlando, da un PD che ancora, con i 5 Stelle, Liguria a parte, fatica a trovare intese sulle regionali. È chiamato ora a pensare di più a Roma, a un candidato, cioè che può avere tutti i nomi possibili, tranne quello di Enrico Letta, già sfilato, si oggi con un doppio no. Non sono romano, non sono in partita. Ancora più negative le reazioni delle altre forze di governo. Errare è umano, perseverare è diabolico, taglia corto Matteo Renzi. Dopo quattro anni inconcludenti, no alla ricandidatura della Raggi, ma anche no ai nostalgici del centro-sinistra, asfaltati quattro anni fa dai 5 Stelle, dice Fassina, di Leu, che punta ad una coalizione sociale. Per non parlare delle opposizioni, solo la Raggi non si accorge di come è ridotta Roma, ci vuole un sindaco all'altezza della capitale, invoca la Meloni, mentre la Lega, con Durigon, parla senza mezzi termini, di peggior sindaco della storia. Saranno i cittadini a darle la giusta risposta, mandandola a casa, praticamente identico, il giudizio con previsione della Germini. Saranno i romani a notificarle lo sfratto. Adesso dobbiamo parlarvi della storia incredibile, che ha ancora un giallo, scuro, cioè la morte della DJ Viviana Parisi, che è stata ritrovata morta, appunto, nelle campagne di Caronia in Sicilia, e la scomparsa del figlio di 4 anni, Gioele. Oggi il procuratore che sta seguendo l'inchiesta per omicidio e per sequestro di persone ha lanciato un appello a chiunque abbia visto qualcosa di testimoniare, soprattutto le persone che hanno prestato i primi soccorsi a Viviana. Naturalmente, quello che si spera è che, almeno dall'autopsia che è in corso da questo pomeriggio, possa emergere qualche elemento in più. È cominciata nel tardo pomeriggio l'autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la donna scomparsa a lunedì 3 agosto e trovata senza vita nelle campagne di Caronia, provincia di Messina, all'ospedale di Messina. Il medico legale avrà il compito di stabilire come è morta e da quanto tempo il suo corpo fosse lì, a circa 500 metri dall'autostrada, dove la DJ ha abbandonato la sua auto dopo un banale incidente. Portandolo, dicono alcuni testimoni con sé, il figlio Gioele, 4 anni di cui però non si hanno più notizie. Sparito nel nulla. Proprio per capire ogni dettaglio, i medici incaricati dell'autopsia oggi hanno fatto un sopralluogo nella zona del ritrovamento del cadavere, prelevando anche insetti e per riccio serviranno a determinare se, come è sembrato nelle prime battute, Viviana Carisi sia morta nello stesso giorno in cui è scomparsa. Da questi elementi potrebbero arrivare le prime risposte, ma la domanda che resta aperta è che fine abbia fatto suo figlio Gioele. La donna lo avrebbe portato con sé perché, aveva detto al marito, voleva comprargli delle scarpe in un centro commerciale. Uscita di casa, Viviana Carisi ha preso una direzione diversa e guidato sull'autostrada per oltre 70 chilometri prima di uscire senza pagare il casello e prendere nuovamente la strada che collega Messina e Palermo. Scoprire il movente del suo comportamento aiuterebbe ad escludere alcune delle piste su cui lavorano gli inquirenti che sarebbero convinti che al di là di alcune testimonianze contraddittorie il bimbo fosse con lei al momento dell'incidente anche quando la donna ha scavalcato il gardrell per addentrarsi nelle campagne di caronia. Chi ha visto qualcosa si faccia avanti all'appello del procuratore di patti Angelo Cavallo, titolare dell'inchiesta. Il magistrato indaga sull'ipotesi di omicidio e sequestro di persona finora senza indagati. Le ricerche continuano con l'aiuto anche di cani molecolari e droni che battono incessantemente un'aria impervia nella speranza di trovare un indizio che aiuti a capire cosa è successo al piccolo Gioele. Dall'estero sono due i fronti più caldi in queste ore. Il primo è la Bielorussia dopo gli scontri delle ultime ore. La principale candidata dell'opposizione ha lasciato il paese si trova in Lituania ma ha lasciato ai suoi sostenitori un messaggio davvero inquietante. Sentite. Un video messaggio pubblicato ieri sera in cui Svetlana Tikhanovskaya legge un foglio e non guarda in camera neanche una volta. Un video che sembrerebbe girato nella commissione elettorale centrale di Minsk che sembra più l'appello di un ostaggio che non di un leader dell'opposizione. Questa la prima notizia sulle condizioni dell'ormai ex fidante del presidente bielorusso Alexander Lukashenka dopo ore di silenzio. Nel messaggio letto in modo meccanico sotto pressione con la voce rotta Svetlana Tikhanovskaya chiede ai manifestanti di stare a casa e accettare l'esito del voto. Poi altre ore di silenzio e preoccupazioni fino al tweet del ministro degli esteri lituano Lina Klinkiewicz Svetlana sta bene è in Lituania. Diverse le leve probabilmente usate su di lei i suoi due figli che aveva già fatto espatriare e la paura di non vederli più il marito popolare blogger dell'opposizione da maggio in cella nelle carceri bielorusse e la paura di fare la stessa fine l'arresto di tutti i membri del suo staff Svetlana Tikhanovskaya che d'altronde non aveva mai espresso alcun desiderio di potere ma che aveva sempre inteso la sua campagna come un atto di denuncia del sistema corrotto ha dovuto prendere la decisione difficile e ha scelto di lasciare il paese dove continuano le proteste ieri sera altri scontri quando la polizia ha cercato di disperdere un raduno di oppositori nel luogo dove un manifestante è morto travolto da una camionetta domenica sera difficile per i contestatori coordinarsi e avere informazioni nel paese è in corso un blocco parziale dei social media da giorni twitter e facebook sono inaccessibili per molti degli utenti della Repubblica ex sovietica dove è stato oggi proclamato uno sciopero in diverse fabbriche del paese tra cui il polo metallurgico di gomme Alexander Lukashenko sceglie dunque la strada della repressione non è disposto a lasciare spazio a proteste lo scenario del Maidan ucraino del 2014 è ancora fresco nella sua memoria e al momento non sembra disposto ad alcun compromesso intanto da Mosca guardano con attenzione la situazione del paese vicino Putin sorgnone si è congratulato ieri sera con il presidente bielorusso per la sua vittoria elettorale non è un mistero che recentemente i due hanno avuto diversi scontri soprattutto legati alle aperture bielorusse a ovest del resto un Lukashenko in carica ma indebolito è uno scenario che non dispiace affatto al Cremlino l'altro fronte caldissimo di queste ore è naturalmente il Libano Beirut che ora è anche senza governo dopo le dimissioni in blocco dell'esecutivo di Diava che praticamente ora dovrà svolgere soltanto gli affari correnti e potrebbe rimanere in questo stato per diversi mesi è già successo in passato più volte in preda a una crisi economica senza precedenti e soprattutto alla devastazione che ha provocato quell'esplosione terribile devastante esattamente una settimana fa nel porto di Beirut tra le campane delle chiese maronite le preghiere dei muezzin dai minareti oggi pomeriggio i libanesi hanno ricordato e reso omaggio alle vittime dell'esplosione del porto di Beirut una settimana fa erano le 18.09 locali le nostre 5 del pomeriggio una gigantesca esplosione di un deposito di sostanze chimiche spazzava via la principale infrastruttura del paese lasciando ovunque devastazione 171 morti e 6.000 feriti il ministero della sanità fa sapere che tra le 30 e le 40 persone sono ancora sotto le macerie provocate dall'esplosione di quasi 3.000 tonnellate di nitrato d'ammonio stoccato da anni in un deposito portuale senza le precauzioni dovute per questo fertilizzante usato anche per costruire bombe la commemorazione avviene all'indomani delle dimissioni in toto del governo di Assandiab in carica dallo scorso gennaio che godeva dell'appoggio di Hezbollah il movimento uscita filo iraniano che ormai controlla con le sue milizie il paese paese che da sempre si regge su di un delicato equilibrio tra movimenti religiosi cronicamente corrotte economicamente in bancarotte e socialmente minato dalla presenza di un milione e mezzo di rifugiati siriani facendo il paragone come se l'Italia ne ospitasse 20 milioni di profughi in attesa dei risultati delle varie inchieste aperte sull'esplosione fonti di stampa internazionali riprese dai media libanesi rivelano che il presidente della repubblica Michel Aoun e il premier Hassan Diab erano stati informati direttamente meno di un mese fa della presenza nel porto di Beirut del nitrato d'ammonio prima di salutarci dobbiamo dire addio al re quello che veniva definito il re del Pandoro uno dei protagonisti della storia industriale italiana si tratta di Alberto Baoli ingegnere che per oltre 25 anni è stato appunto la presidenza del gruppo Dolciario che è il leader della produzione dei Pandori si è spento a Verona avrebbe compiuto tra poco 80 anni è stato presidente del gruppo fondato nel 22 dal padre Ruggero che ora ha sede a Castel Dazzano in provincia di Verona dopo di noi vi ricordo ospiti questa sera di Inonda sono Pietro Senaldi Stefano Feltri Andrea Crisanti Marianna Aprile Luciano Canfor Raffaele Fitto e Cecilia Strada noi ci fermiamo qualche istante e poi torniamo per gli aggiornamenti eccoci brevemente intanto vi confermo quella notizia con cui abbiamo aperto il giornale perché il deputato e segretario della Liga Veneta Lorenzo Fontana sulla questione dei rimborsi bonus dell'IVA ha ribadito quanto già affermato giorni fa cioè che verranno esclusi dalle liste tutti quelli che hanno fatto domanda per il bonus IMS questa linea è stata confermata da una telefonata con Salvini dice Fontana la decisione definitiva sarà presa dopo una consultazione col direttorio della Liga Veneta e come sempre in chiusura diamo un'occhiata alle borse oggi sono tutte estremamente positive soprattutto per i dati che arrivano dalla Germania più di tutti è andata bene a Milano lo vedete chiaramente alle mie spalle dall'indice Futsimib che è più 2,84 molto basso invece lo spread è sceso a 148 punti base in questo momento la borsa americana positiva nella stessa maniera il Dow Jones è più 0,81 leggermente negativo invece il Nasdaq è il titolo dei titoli tecnologici è a meno 0,60% linea in onda grazie per l'attenzione se volete ci vediamo domani sera poco prima delle 20 buona serata grazie per l'attenzione